Il territorio di Colli del Tronto è particolarmente evocato all'agricoltura. Siamo nell'azienda agricola Vallorani e Marconi. Sono in compagnia di Elisa e Silvio che rappresentano la famiglia. Allora Elisa, parliamo subito come è iniziata la storia di questa azienda agricola. Certo. La storia della nostra azienda agricola inizia con l'attività di nostro nonno Silvio Vallorani che era mezzadro di un proprietario terriero di Colli del Tronto ma stanco di lavorare per altri decide di mettersi in proprio e acquistare alcuni terreni. L'attività di nostro nonno è stata poi continuata dai suoi figli, Gino e Felice, cioè nostro zio e nostro padre, attraverso la produzione di uva e vino prima e poi attraverso varie tappe si è arrivati a quella che è l'azienda attuale di oggi con la produzione quindi di frutta e olio. E parliamo proprio di frutta con Silvio. Qual è la specialità di questa azienda? La specialità dell'azienda sono le ciliegie, ne abbiamo di tutte le varietà, di veramente buonissime e molto ricercate anche nelle nostre zone. Poi spaziamo anche su pesca, albicocche, sussine, insomma maturazione diciamo per tutto il periodo estivo e anche autunnale con le mele, fino ad autunno inoltrato. Poi c'è l'oliveto, l'oliveto molto importante con una serie di varietà miscelate in modo idoneo per avere oli particolarmente interessanti e assieme a una molitura completamente fatta a freddo e tramite solo procedenti meccanici riusciamo a ottenere i nostri oli, in particolare tre ne produciamo, che sono di ottima qualità. Abbiamo il Solagna che è a prevalenza di Sargano e Carboncella, il Santa Cristina che è a prevalenza di Frantoio e Leccino e un Tenera Scolana che è un monovarietale. Di questi oli noi facciamo anche qualche gara regionale anche con ottimi piazzamenti e adesso mia sorella vi racconterà qualche proprietà degli oli. Allora Elisa Sì, le proprietà terapeutiche dell'olio sono universalmente riconosciute, ad esempio i polifenoli e la vitamina E svolgono un'azione antiossidante che rallenta l'invecchiamento delle cellule e quindi diminuisce il rischio dei tumori e inoltre diminuisce la pressione arteriosa e quindi il rischio di infarto. Elisa, quali sono le curiosità che volevi dirci sulle ciliegie? Sì, allora gli antichi greci decantavano le ciliegie come il frutto del paradiso questo perché sono un frutto gustosissimo al quale non si può resistere ce lo testimoni anche il letto, una ciliegia tira l'altra proprio perché è impossibile resistere alla tentazione. Silvio, parliamo invece adesso dell'agriturismo che è venuta ad arricchire recentemente e già l'azienda agricola. Esatto, l'anno scorso siamo riusciti a portare a termine questo progetto pensato dalla nostra famiglia già da tempo e abbiamo costruito l'agriturismo, siamo riusciti a ottenere la licenza e possiamo ospitare su due stanze matrimoniali un appartamentino completo con cucina, tutti i vari comfort, insomma bagni in camera, condizionatori, wifi per la connessione a internet e poi abbiamo il salone, salone che possiamo dare in gestione per feste, feste di compleanno, capodanni, carnevale, ma anche ricevimenti, presentazioni, non so abbiamo avuto la presentazione di un libro della maestralità Gregori e poi sì insomma tante feste vengono organizzate, ad esempio una per tutte l'Accademia del Divin Porcello che si riunisce annualmente nei nostri spazi per organizzare quello del Gran Gala del Salame, un bel evento goliardico in cui insomma molti amici si riuniscono per festeggiare tutti assieme. Allora possiamo invitare anche i nostri telespettatori a venire qui proprio in quel periodo così potranno diciamo avere la calorosa ospitalità. Volentieri anche assaggiare i nostri oli perché no? Sicuramente, allora vi salutiamo Elisa e Silvio, buon lavoro, buona giornata, grazie a voi.